Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questo 114esimo episodio del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box. Spero che siate tutti quanti bene, anche se oramai è diventato a gloria del giorno uno scoppio di focolari covid. E mi sono accorto che, anzi ho constatato che parecchie persone tra le mie cerchie, tra le mie cerchie ristrette, sono allettate a causa covid. E mi dispiace per loro un grande abbraccio, un augurio di punta guarigione a tutti quanti. Sapete che ci sono passato, e ci sono passate nel periodo in cui non c'era nemmeno la possibilità di vaccinarci. Quindi io me lo sono beccato da non vaccinato. Molte di queste persone che conosco hanno fatto il vaccino fortunatamente, quindi i sintomi non sono in linea di massima sintomi gravi. Spero comunque che tutti voi lettori siate bene e se vi trovate ammalati, forza e coraggio. Ma comunque, passiamo alle notizie. Apriamo questa puntata parlando del rilascio di PopOS 21.10 Come saprete, circa una quindicina di giorni fa è stata rilasciata la versione 21.10 di PopOS. Questa nuova versione, come lascia presaggire il nome, è basata sul punto 21.10 e include il kernel 5.15.5 e l'ultima versione dei driver Nvidia. Oltre a questo, introduce un nuovo pannello delle applicazioni che non è più a schermo intero, ma è, diciamo così, in finestra. È davvero ben fatto. Mi piace di più rispetto al vecchio approccio. Vedremo come si comporterà nel prossimo immediato futuro System76 perché come saprete di certo, System76 ha annunciato di stare lavorando un proprio desktop environment scritto in Rust riscritto completamente da zero, quindi abbandonerà Gnome e Shell. E vedremo che cosa combinerà. Degna di nota anche di questo rilascio è una prima tech preview di PopOS per Raspberry Pi 4. È una gradita sorpresa. Diverse persone che conosco subito si sono cimentate nel provarla. Ovviamente, essendo una tech preview, non riceve, diciamo, lo stesso focus di qualità degli aggiornamenti rispetto all'edizione principale, l'edizione desktop, però comunque è un'opzione eccellente per tutti quegli utenti smanettoni intenzionati a provare qualcosa di nuovo su proprio Raspberry Pi. Fatemi sapere se voi avete provato PopOS 21.10, se vi piace, se come me la consigliate ad altri utenti, anche neofiti e vabbè, lasciate un commento su Marcosbox. Per approfondire ulteriormente PopOS vi consiglio di andare poi a leggere l'articolo recensione pubblicato da Google Moscato su PopOS nel quale va a dare una sua serie di impressioni a caldo su PopOS dall'installazione, al primo video, agli utili e software preinstallati e quant'altro. Dategli una lettura che è davvero interessante. Restando in tema derivati di Ubuntu, parliamo della versione beta di Linux Mint 20.3 che è stata rilasciata attorno a metà dicembre il cui rilascio in versione stabile è ormai imminente. Quindi se non è stata rilasciata, se non viene rilasciata domani, giorno 31 verrà rilasciata quasi sicuramente nella prima settimana di gennaio del 2022. Quali sono le novità di questa nuova versione? Beh, iniziamo col dire che questa nuova versione di Linux Mint è basata sull'ultima, point release dell'ultima LTS di casa Canonical ovvero Ubuntu 20.04.3 LTS da essa eredita l'aggiornamento del parco applicazioni ma anche l'aggiornamento del kernel Linux e dei driver liberi. Le novità di questa nuova versione? Quello che salta subito all'occhio di questa nuova versione riguarda il nuovo look and feel che vede miglioramenti nella palette colori del tema Mint Y quindi con colori più piacevoli da vedere, diciamo così miglioramenti che sono stati fatti anche nel tema vero e proprio quindi che ne so, nella gestione della selezione delle vari menu quindi le voci nei menu che quando vengono selezionate adesso non sono più, che seguono il colore principale ma sono grigine, quindi hanno dato un aspetto più professionale agadisto, questi piccoli miglioramenti ci sono poi miglioramenti che sono stati fatti, che ne so ai cussanti minimizza, massimizza e chiudi che sono adesso più grandi, quindi più facilmente cliccabili ma anche più belli da vedere con il colpo d'occhio purtroppo manca ancora un redesign del tema di Cinnamon e manca ancora un nuovo tema di icone io non so come fate a dire che il tema di Linux Mint di default di Linux Mint e delle icone è un bel tema, io non lo so io lo detesto con quelle icone di terze parti bruttissime che fanno molto anni 90 vabbè, comunque parliamo delle cose cicciose di questa nuova versione beh, oltre al redesign leggiore redesign che sono fatto del tema troviamo dei miglioramenti in ImptonTX che è il lettore IPTV che troviamo nel parco software preinstallato su Linux Mint ma che è possibile installare anche su altre distribuzioni io l'ho installato ad esempio sulla mia KDE Neon adesso ha ricevuto il supporto alla modalità scura un nuovo set di bandierine è stata aggiunta la funzionalità di ricerca per trovare facilmente canali tv, film e serie insomma tutto quello che ci aggrada di più è stata aggiunta una nuova applicazione che si è chiamata Tinky che è un gestore di documenti che ci dà rapido accesso ai nostri documenti preferiti aperti di recente e tiene traccia dei progressi di lettura è stato fatto alcuni miglioramenti nell'applicazione Sticky Notes che adesso ha una funzione di ricerca e sono state fatte è stato aggiunto il supporto ai temi scuri per X-Apps come Celluloid Hypnotix X-Viewer Pix ma anche per il terminale di Gnome in Cinnamon è stato migliorato l'applet del calendario con la gestione degli eventi multicali è stato fatto altri miglioramenti qua e là nelle varie applicazioni principali delle X-Apps quindi miglioramenti nell'editor di testo che adesso possiamo navigare tra le schede con le scorciatoie da tastiera CTRL-Tab e CTRL-Shift-Tab è stato fatto un'aggiunta al lettore X-Reader il lettore PDF che ha ricevuto il supporto alla lettura dei manga quindi nella modalità da destra a sinistra anche la direzione dei tasti freccia adesso è invertita quindi andando a sinistra si va avanti nel documento come si farebbe normalmente se si va a leggere un manga con la lettura alla giapponese perché non tutti i manga hanno la lettura alla giapponese e poi ci sono altri miglioramenti qua e là vi invito a leggere le note di rilascio come vi dicevo il rilascio della versione stabile dovrebbe arrivare a breve quindi magari ne parleremo approfonditamente il giorno del rilascio con l'articolo dedicato completeremo il trittico delle derivate famose di Ubuntu parlando di Elementar OS che ha visto il rilascio della versione 6.1 doveva in codice JOURNIR qualche giorno fa credo di aver pronunciato in modo inesatto JOURNIR anzi sono quasi sicuro sapete bene sbagliato le pronunce dei termini italiani figuriamoci delle parole in lingue a me sconosciute comunque vediamo quali sono le novità di questa nuova versione di Elementar OS la prima novità riguarda l'App Center che ha visto l'arrivo di sempre nuove sempre maggiori applicazioni curate sviluppate da applicazioni di terze parti in formato flat pack applicazioni curate quali sono? sono le applicazioni che praticamente seguono le linee guida di Elementar OS e che quindi si integrano alla perfezione nel sistema è una cosa che se da un lato può essere piacevole dall'altra è una cosa che può creare problemi perché su Elementar OS ho notato nel corso degli anni diversi bug diverse incoerenze grafiche che si hanno con alcune applicazioni di terze parti recentemente per esempio mi ricordo il fatto il problema che è presente con i launcher di Minecraft che si crea un agone attorno quando si viene avviato c'è il problema dei plank che continua la doc di Elementar OS che continua a dare l'errore quando si avviano determinate applicazioni di mostrare una doppia icona una su tutti ad esempio su Gimp se provate a lanciare Gimp vi comparirà l'icona di Gimp poi vi comparirà un'icona bianca di Gimp direte voi un problema di come è stata sviluppata l'applicazione che non non è stanta non lo so ditemi voi secondo voi da che cosa deriva questo problema fatto stare che questo bug c'è soltanto sulla doc di Elementar OS e vabbè insomma può fi appiacere come dicevo questa voglia di avere tutto coerente però ogni tanto scazzano e quindi l'effetto wow iniziale si scontra con la dura realtà passiamo alle altre novità di Elementar OS chiudiamo la nota polemica è stato ridisegnato la funzionalità di cambio finestra che è stata ridisegnata e riprogettata completamente adesso l'alt tab presenta un nuovo selettore finestra più semplice che è meno invadente per il nostro flusso di lavoro ed è di fatto quello che noi vediamo già su se non ricordo male su XFCE che ha lo stesso look and figure andate a vedere su Marcosbox l'animazione per capire di che cosa sto parlando adesso il nuovo selettore di finestra viene sempre visualizzato al centro del display corrente e presenta delle icone più grandi che ci aiutano ad identificare più rapidamente le applicazioni sono state fatte poi ridisegnate e sono modificate il design dell'interazione delle finestre di dialogo anche in questo caso non mi dilungo troppo nello spiegarvi quali sono le novità del design perché andate su Marcosbox andate a vedere l'animazione per capire di che cosa sto parlando perché è inutile che ve ne parla a voce che non si capisce niente se lo dico a voce è stata fatta poi anche qualche miglioria per quanto riguarda il menu applicazioni e sono state modificate sono state fatte un paio di correzioni nel programma nell'installatore e nel configuratore iniziale fatemi sapere voi che cosa ne pensate di Elementary OS io da canto mio ho smesso di consigliare Elementary OS agli utenti nuovi di Linux consiglio Linux Mint non consiglio Ubuntu ma non consiglio mai più non consiglio mai più Elementary OS perché mi sono reso conto che ci sono alcune cose che possono lasciare lasciare straniti gli utenti anche i primi armi la mancanza degli indicatori e l'impossibilità di ripristinarsi tramite qualche hack il problema delle applicazioni che ad esempio se fate un'installazione fresca di Elementary OS e andate a cercare una determinata applicazione che non è presente all'interno delle applicazioni curate non vi viene visualizzata dovete ricorrere al Afgatab si all'interno dell'app center se cercate una determinata app non presente non curata vi invita ad aprire Flattab c'è il link che vi invita ad aprire Flattab che vi invita a scaricare il Flattab che dovete installare che dovete confermare a sua volta sono consapevole che questo Instagram è un'applicazione di terza parte insomma stanno facendo fanno di modo tale che io mi scoccio voglio utilizzare questa applicazione vedo se c'è una compatibile curata nel design evito di utilizzare le applicazioni delle cose strane a me non piace questo atteggiamento di Elementor.io nelle applicazioni delle applicazioni di terza parte così come non è possibile installare PPA aggiuntivi se non andando a installare il pacchetto per poter installare i PPA aggiuntivi tutte cose che frenano l'utilizzo della distro per gli utenti neofili che magari vanno a cercare su internet dove gli dice per poter installare quel applicativo tra i dettagli installare il PPA poi vanno a mettere il PPA non funziona vanno a installare la versione Flattab che magari funziona male non si integra bene tutte cose che ripeto non mi piacciono di questo atteggiamento degli sviluppatori di Elementor.io S comunque concludiamo l'ospensione dedicata a Elementor.io S perché è stato anche pubblicato in questi giorni un articolo del Buon Luca che spiega come installare Elementor.io S in VirtualBox perché Elementor.io S dà problemi anche in VirtualBox e c'è una apposita voce da sfruttare all'interno di VirtualBox per poter far partire per poter far installare Elementor.io S in VirtualBox quindi andatevi a leggere il suo articolo chiudiamo questo spezione dedicato alle distribuzioni Linux parlando di Nitrux Nitrux è una derivata di Debian che offre una sua shell tutta personalizzata basata su GQT ed è anche interessante perché ha un gestore pacchetti sviluppato in casa è davvero carina come distribuzione anche se non è per tutti negli scorsi giorni ha annunciato però di stare lavorando a una nuova shell chiamata Maui Shell che vedremo prossimamente come shell predefinita sulla distribuzione è una nuova shell che è pensata per funzionare sia su desktop tablet e smartphone quindi capace di adattarsi al fattore di forma è completamente riscritta è basata su due componenti principali CASC che è il contenitore della shell e dei modelli di elementi come pannelli finestre pop up schede dock e quant'altro e ZSpace che è il compositore basato su API QT Wayland Compositor che si occupa quindi di superfici gestione di finanza e spazi di lavoro è compatibile sia con sarà compatibile sia con Wayland che con X11 e ha un look come potete vedere dalle foto che sono state postate su Marcosbox un look che ricorda vagamente macOS quindi abbiamo la classica dock in basso abbiamo poi un layout con un pannello superiore con dei quick toggle alla macOS all'ultima versione di macOS ma ricorda anche le varie implementazioni delle varie modalità desktop di Android quindi con dei pannelli che scendono separati ben netti ben definiti andatevi a vedere gli screenshot su Marcosbox e soprattutto andate a vedere il video che è stato postato se cercate un link per scaricare la ISO di Nitrux dovete pazientare un po' perché come vi dicevo attualmente il lavoro e il sviluppo di Maui Shell non è ancora completo la Shell non è usabile mancano diverse funzionalità come il supporto per il multischermo il gestore della sessione il centro di controllo per la gestione di impostazioni di sistema l'estensione della Shell X-Wiland manca il supporto a puls audio il supporto al bluetooth tramite Blue Devil drag and drop gli spazi di lavoro il tog manca tantissima roba però il team di sviluppo di Nitrux ha detto che ne vedremo delle belle a breve quindi nella prossima versione di Nitrux avremo la sessione di Maui Shell perfettamente funzionante si spera cambiamo decisamente l'argomento e parliamo di DuckDuckGo DuckDuckGo lo conoscete è il famoso motore di ricerca attento alla privacy degli utenti che è diventato famoso nel corso degli anni anche perché gli sviluppatori di DuckDuckGo hanno deciso di realizzare anche una serie di applicazioni di estensioni applicazioni per mobile quindi abbiamo i browser per dispositivi Android e anche quello per dispositivi iOS abbiamo poi una serie di estensioni per Firefox e Google Chrome o meglio tutti i browser basati su Chromium che consentono di effettuare ricerche con DuckDuckGo e hanno anche tre funzionalità interessanti per migliorare la privacy degli utenti in particolare i browser web cioè i browser per Android offre diverse funzionalità interessanti come ad esempio il fatto che viene in maniera predefinita avviene sempre la modalità di ricerca in incognito avviene come modalità di ricerca sempre quella su DuckDuckGo come motore di ricerca ci sono funzionalità che migliorano la privacy bloccando i traccianti i cookie traccianti c'è la possibilità ad esempio di chiudere istantaneamente tutte le schede aperte quindi di non lasciare nulla in sessione aperto quindi privacy massima quindi chiudete l'applicazione vi cancella tutto funzionalità che è comunque presente anche su altri browser web come Firefox Focus però su DuckDuckGo funziona decisamente meglio l'altra prerogativa di DuckDuckGo è che recentemente ha introdotto due servizi interessanti uno per migliorare la privacy del proprio indirizzo web praticamente è possibile creare un alias di DuckDuckGo una mail alias al quale reindirizzare eventuali mail e preservare la nostra vera mail e infine ha presentato recentemente una nuova funzionalità all'interno della versione per browser per Android che consente di sfruttare una VPN interna creata ad hoc che va a monitorare il traffico in uscita delle varie applicazioni presenti sul nostro dispositivo sul nostro smartphone applicazioni che cercano di connettersi a servizi di terze parti per il tracking e io l'ho provata questa funzionalità attualmente in beta io l'ho provata fin dalle prime versioni ed è davvero davvero specie vedere quanti tentativi di connessioni a server di tracciamento servizi di tracciamento ci sono nelle varie applicazioni per Android recentemente mi sono accorto ad esempio di una delle applicazioni che utilizzavo più frequentemente che è un client per Reddit Joy e mi sono accorto che Joy fa uno proposito di chiamate tantissimi servizi quindi tutte queste migliorie queste funzionalità per migliorare la propria degli utenti che sono state introdotte alle time di DuckDuckGo fanno riflette su quanto siamo tracciati e spiati oddio molte di queste cose sono prettamente innocenti servono semplicemente a dare agli sviluppatori strumenti per far funzionare meglio le proprie applicazioni però altre sono completamente senza senso perché vi sto parlando di DuckDuckGo vi dicevo perché adesso è stato annunciato l'intenzione da parte degli sviluppatori di realizzare un browser desktop che si andrà a prendere tutti quanti i punti di forza di DuckDuckGo quindi nessuna impostazione complicata nessun avviso forviante nessun livello di protezione della privacy da impostare ma solo una valida solida protezione per la privacy che funziona per impostazione predefinita attraverso la ricerca la navigazione e la posta elettronica è molto attuale che vedremo in divenire invece di effettuare l'ennesimo fork di Chromium o di qualsiasi altra cosa gli sviluppatori hanno deciso di costruire la loro applicazione desktop attorno ai motori di render impredefiniti il sistema operativo come accade sui dispositivi mobile permettendo quindi agli sviluppatori di eliminare un sacco di inutili impurità e del disordine che si è accumulato nel corso degli anni nei principali browser l'interfaccia utente sarà pulita e semplice e ritroveremo anche il famoso pulsante fire presente su DuckDuckGo per Android e per iOS che praticamente se ci premete sopra vi consente di eliminare in un suo corpo tutte le schede aperte i dati di navigazione rispetto a Chrome DuckDuckGo per desktop sarà quindi più pulito offrirà maggiore protezione e dai primi testi si è visto che questa versione desktop è anche molto più veloce speriamo che arrivi a breve speriamo soprattutto che arrivi una versione per Linux perché nel comunicato stampa non era lasciato intendere che ci sarà una versione anche per Linux speriamo incrociamo le dita passiamo adesso a parlare di Gimp l'editor di immagini multipiattaforma e pensose tanto amato da pinguini ma anche da utenti Windows c'è stata rilasciata la versione 2.10.30 questa nuova versione una minor release che si concentra su correzioni di bug ma anche sull'aggiunta di alcuni interessanti miglioramenti i miglioramenti riguardano soprattutto il supporto per alcuni formati di file che è stato migliorato abbiamo miglioramenti nel supporto dei file AVIF HEIF PSD DDS RGBE e PBM in particolare il supporto PSD ha ricevuto vari tipi di miglioramenti che gli permettono di caricare più sotto casi i PSD quindi mascheri dichiattati con dimensioni non valide CMYK senza alfa senza strati immagini diffuse di un RGBA 16 bit per canale insomma tutte cose che voi nerd ci sguazzate voi nerd del ritocco del ritocco fotografico infine l'esportazione AVIF favorisce l'encoder ADM ci sono poi anche altri miglioramenti nel codice di base dei plugin dei metadati e miglioramenti poi che riguardano specificatamente le versioni per Windows Mac OS Linux andatevi a leggere maggiori informazioni sull'articolo legato su Marcosbox infine parliamo di KeyCAD perché c'è stato il rilascio di una nuova versione KeyCAD per chi non conoscesse è una suite open source di software Electronic Design Automation che serve per il disegno di schemi elettrici e circuiti stampati questa nuova versione è la versione 6.0.0 è la prima major release dopo tanto tempo perché l'ultima versione la precedente versione era stata rilasciata a luglio del 2018 ci sono molti cambiamenti importanti che rendono questa versione un miglioramento sostanziale rispetto alla serie 5.x ed è un aggiornamento utile per gli utenti su tutte le piattaforme ci sono centinaia di nuove funzionalità e miglioramenti così come centinaia di bug che sono stati corretti per maggiori informazioni vi rimando all'articolo dedicato su Marcosbox concludiamo infine questa puntata del podcast di Marcosbox con due belle notizie dal mondo del software libero open source la prima riguarda uno storico riconoscimento del software libero in Italia da parte di un tribunale nella fattispecie il tribunale di Venezia che ha promulgato la prima ordinanza cautelare che va a tutelare la licenza GPL la decisione è dello scorso 13 dicembre e segna una importante vittoria per il software libero in Italia e rappresenta un passo importante della direzione di un potenziamento di tutte le tutele delle opere di ingegno distribuite attraverso licenze di software libero in tutte le sue forme e quindi è un concreto progresso per la giurisprudenza italiana in materia di software libero open source e anche più in generale per tutto il paese la vicenda nasce da un ricorso di Ovation SRL società titolare del software da M&A Co che è un plug-in per Ementor Ementor il più importante page builder al mondo per creare siti internet con Wordpress l'azienda che distribuisce il software attraverso una licenza gpl3 assistita da due avvocati l'avvocato Carlo Piana e l'avvocato Alberto Pianon ha affidato al Tribunale di Venezia la tutela del proprio programma il cui codice era stato ridistribuito da un'azienda concorrente fondata da due ex sviluppatori usciti dal team di sviluppo di Dynamico che però facendo questo fork facendo questo prodotto derivato non avevano rispettato le chiare indicazioni della licenza gpl che prevede espressamente il riconoscimento dell'opera originaria in particolare l'azienda condannata aveva sì legittimamente derivato l'opera da Dynamico possibilità prevista dalla licenza ma l'ha distribuita in violazione delle regole della GNU gpl cioè senza inserire menzioni di modifica e senza indicare il titolare dei diritti originali la stessa aveva poi continuato il comportamento illecito nonostante una formale comunicazione di termination il primo strumento di protezione previsto proprio per tutelare gli sviluppatori che decino di distribuire il proprio codice in forma libera la decisione del tribunale di venezia ha riconosciuto dunque pieno valore legale alle licenze gpl segnando un importante passo avanti per la salvaguardia del software libero e chiarendo in particolare il fatto che libero non significa esente da doveri o da regole il giudice con la sua pronuncia ha chiarito infatti con forza che il software libero attribuisce diritti e dovere che lo utilizza e per questi motivi ha condannato l'azienda concorrente alla immediata rimozione del codice copiato e alla pubblicazione di un estratto della decisione nel proprio sito e nei canali social applicando quindi la normativa vigente in materia del diritto d'autore in materia di software ed è una bellissima notizia che mi rende orgoglioso dovrebbe rendere orgoglioso tutti noi italiani infine parliamo della bellissima iniziativa messa su dall'Italian Linux Society che per chiunque dell'imbellezza nel 2021 ha deciso di distribuire oltre 7000 euro in donazioni a progetti che riguardano free software ma anche iniziative legate alla cultura libera su macrosbox trovate la lista delle donazioni effettuate che sono state sono state rese possibili anche grazie a voi che versando la quota di iscrizione all'Italian Linux Society o magari tramite donazione o con una sponsorizzazione aiutate l'Italian Linux Society che a sua volta aiuta la community ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 114esima puntata del podcast in macrosbox l'ultima del 2021 e che dire un abbraccio a tutti tutte quelle persone che in questi momenti si stanno trovando a dover combattere contro il coronavirus vuoi per essersi contagiati vuoi anche per quarantene fiduciari per essere stati in contatto cercate di stare tranquilli e sereni cercate di di non farvi abbattere lo sapete come ho detto all'inizio puntata anche io sono stato vittima di coronavirus e l'ho preso in un periodo in cui in cui non c'erano nemmeno i vaccini quindi mi sono beccato il coronavirus senza vaccini e con tutti quanti i sintomi i sintomi fastidiosi che questa che questa malattia porta spero per voi che siete la maggior parte tutti quanti vaccinati perché come avete avuto modo di vedere la vaccinazione aiuta anche per quando riguarda eventuali contagi successivi per per calmirare i sintomi non me ne vogliate voi che siete conto ai vaccini che già mi avete rimpoverato in altri luoghi qualche tempo fa quando ho fatto alcuni commenti a riguardo comunque un augurio di cuore un abbraccio speriamo che possiate passare una buona fine del 2021 un buon inizio del 2022 speriamo che il 2022 sia finalmente l'anno in cui possiamo mandare a quel paese il coronavirus speriamo che sia veramente l'anno della rinascita incrociamo i nostri cuori no incrociamo i nostri cuori non si può dire vabbè trasmettete energia positiva se ci credete magari possiamo aiutare a migliorare un po' la situazione lunga vita e prosperità a tutti quanti e come dice MWVblog restate sani